book trailer film festival siamo alla nona edizione questa sera abbiamo il piacere di ritrovare con noi il professore fabio larovere che anche giornalista e tra l'altro è stato all'interno di titi racconta anche in veste di direttore artistico dell'associazione cieli vibranti esperto di musica insegnante del liceo ma è membro della giuria del book trailer film festival buonasera fabio buonasera e torna anche marco cominelli ex studente del liceo calini attualmente laureando in ingegneria ed è regista del book trailer che questa sera presenteremo ma attenzione fa parte anche della giuria del book trailer film festival giusto ben ritrovato marco allora ci stiamo avvicinando al momento clou ricordiamo le iscrizioni termineranno il 20 marzo dico bene professore esattamente sì le iscrizioni terminano il 20 marzo e possono partecipare come sanno tutti i nostri studenti e i ragazzi interessati al progetto gli studenti delle scuole superiori italiane non solo anche diciamo europee abbiamo probabilmente anche qualche partecipante dall'estero anche quest'anno è un concorso per realizzare un trailer della durata massima di tre minuti ispirato a un libro e che come avviene per i trailer cinematografici ha come principale scopo quello di promuovere la lettura del libro che chiaramente è una finalità che ben si sposa con gli obiettivi più generali della scuola essendo l'iniziativa promossa dal liceo calini che insomma in fondo è una scuola quindi prima di tutto noi facciamo didattica e cerchiamo di fare cultura certo lei è anche esperto di musica quando segue come giurato quando segui era giusto per farmi più vecchio di quel che sono l'autorevolezza c'è a prescindere quando segui come giurato il book trailer dai anche attenzione alla musica che viene selezionata sì sì perché la musica è una componente essenziale è vero che il book trailer come dire gioca molto sull'immagine però è altrettanto vero che la musica o le parole insomma che possono essere scritte possono essere recitate perché insomma poi i ragazzi trovano modi diversi no di esprimere la propria creatività ecco noi negli ultimi anni abbiamo visto crescere il book trailer il numero dei book trailer con musiche originali e questo è molto bello perché se al di là appunto della regia al di là della combinazione di immagini della mettiamo insomma della sceneggiatura tra virgolette se così la si può definire del trailer se c'è anche un impegno degli studenti dei ragazzi nello scrivere la musica questo viene molto apprezzato dalla giuria e credo che gli ultimi book trailer premiati avessero anche proprio musiche originali sì le ultime edizioni hanno visto un aumentare del numero di book trailer con musica originale realizzata proprio dagli studenti e la giuria ha scelto di premiare questa scelta proponendogli durante la serata di premiazione in alcuni casi anche vincendo i primi premi nel tuo caso stasera noi presenteremo il tuo book trailer che si riferisce all'opera al nero nel tuo caso la musica come è stata selezionata? nel mio caso si tratta di una musica non originale questo che vedremo stasera è un book trailer che era in concorso nell'edizione 2010 del book trailer film festival e erano partiti da un'idea erano partiti dall'idea di voler realizzare un book trailer che raccontasse la storia dietro il libro utilizzando una videocamera e dei nostri compagni come attori non volevamo soltanto proporre delle immagini che scorressero e dessero idea dell'atmosfera del book trailer di cosa il book trailer parlava ma volevamo proprio raccontare la storia narrata nel romanzo di Margarita Ursenal il book trailer e l'opera al nero il libro è stato scelto da te, dai docenti? no perché non ci deve essere un zampino il libro l'avevo scelto io come lettura estiva da una rosa di libri consigliati e mi aveva molto colpito, mi era molto piaciuto, l'ho fatto leggere a dei miei amici ci siamo trovati verso la fine dell'estate e abbiamo cercato di mettere insieme le nostre conoscenze per dare vita poi al tuo book trailer allora a te era stato consigliato, a te è piaciuto adesso guardando il book trailer realizzato proprio da Marco Cominelli e se non sbaglio anche da altri tuoi compagni possiamo nominarli Leonardo Lunati ed Enrico Fregnan ecco perfetto, vediamo se guardandolo invogliamo anche qualche uno dei nostri telespettatori l'opera al nero 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 questo è il book trailer realizzato da Marco Enrico Leonardo, ex studenti calini adesso cosa frequentano gli altri ragazzi Marco? allora uno frequenta ingegneria informatica a Milano e l'altro fisica a Pavia bene allora il book trailer è sicuramente così come l'hai descritto è incisivo tra l'altro abbiamo ritrovato il castello di Padernello giusto? sì abbiamo avuto l'onore di girare dentro il castello di Padernello avevamo chiesto la disponibilità che ci è stata gentilmente offerta per quest'opera in ambito didattico si può definire e il book trailer si è poi classificato al terzo posto dell'edizione 2010 riscontrando il successo della giuria che ha scelto il premiare questa l'utilizzo di riprese nostre per raccontare il book trailer per raccontare il libro non solo il castello di Padernello giustamente Fabio faceva notare anche il bello del cinema è anche questo che diversi posti poi vengono condensati all'interno di la bruge del XVI secolo in realtà sono pezze di pianura bresciana e la frustra però è molto bello perché avete scelto delle location assolutamente affascinanti sì le location sono fantastiche Padernello, Monti Chiari la piega di San Pancrazio che è una delle più antiche piega del territorio brisciano esatto alcune scene sono state girate anche sul lago di Zeo quindi anche l'immagine stessa iniziale mi ricorda le torbiere esatto sì esattamente gli attori siete voi tre? gli attori sono Enrico e Leonardo io sono rimasto dietro la macchina dietro la videocamera in un modo o nell'altro ti trovi meglio dietro la telecamera esatto in questo caso devi starci davanti perché sei ospite in questo caso devi starci davanti tutti e tre però abbiamo collaborato per studiare le inquadrature e capire il lavoro che c'era dietro un'opera di questo tipo è arrivato terzo è arrivato terzo giusto? esatto Fabio da quanti anni sei nella giuria del book trailer? sono dieci anni credo ormai da quando ho iniziato questo progetto un progetto molto bello che portiamo avanti come liceo e che speriamo insomma di veder crescere nel tempo sicuramente riscontra una grande simpatia anzitutto tra gli studenti della nostra scuola ma anche tra i ragazzi di diverse scuole bresciane perché come dicevo anche in altre occasioni il linguaggio delle immagini, il linguaggio della musica che appunto va a ritmo con le immagini la parola ritmo è fondamentale per noi della giuria quando valutiamo un book trailer questo linguaggio è particolarmente vicino al linguaggio dei ragazzi di oggi e quindi a volte i colleghi che assegnano letture di libri chiedono di fare la classica relazione scritta sul libro ma possono anche chiedere come il caso della professoressa Forcella che è l'anima di questo progetto possono chiedere di realizzare anche un book trailer che può esprimere lo spirito del libro allo stesso modo di come lo può fare una più tradizionale relazione scritta ripeto perché il bello di questo progetto è che coniuga un linguaggio moderno innovativo con le finalità tradizionali della scuola che sono sempre quelle appunto di promuovere la lettura perché noi crediamo che la lettura sia un valore in quanto la cultura è un valore che rende migliore la persona e consente alla persona di esprimere il meglio di sé e quindi quando incontriamo a scuola ragazzi che rispondono a questo nostro stimolo in modo creativo come appunto è il caso del book trailer pensiamo di aver raggiunto l'obiettivo che ci poniamo come insegnanti tu hai letto un libro perché sei stato invogliato vedendo un book trailer presentato in festival sì, beh nel caso specifico questo nel senso però devo dire che è uno dei pochi libri che ho iniziato e non ho finito che è una cosa che faccio rarissimamente amo Margheriti Ursenar della quale naturalmente ho letto le memorie di Adriano che sono un capolavoro strepitoso della letteratura del novecento e ho letto altri una raccolta di saggi il tempo grande scultore della Ursenar che è stato un intellettuale insomma a trecentosessanta gradi ho trovato faticosa la lettura invece di questo libro ma mi sono ripromesso di riprenderlo in mano appena avrò più tempo insomma da dedicarvi già il fatto che il book trailer l'abbia invogliato a leggere è una vittoria è certo l'obiettivo è stato raggiunto l'obiettivo è raggiunto infatti ricordiamo che i book trailer non saranno solo giudicati dalla giuria presente all'interno del concorso ma anche da tutti i ragazzi anche tramite internet se non sbaglio allora dall'anno scorso abbiamo scelto una modalità di votazione online di votazione del pubblico che sarà esclusivamente in sala e la votazione online si deciderà dopo la serata di premiazione per ora durante la serata di premiazione della giuria verranno proiettati alcuni book trailer selezionati e il pubblico in sala potrà votare tramite cartolina al suo preferito benissimo ricordiamo il sito internet book trailer film festival ringraziamo i nostri ospiti il professor Fabio Larovere grazie Fabio grazie a voi e Marco Cominelli grazie Marco grazie buona serata il book trailer presentato questa sera è l'opera al nero ci fermiamo per un attimo torniamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti